musica 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 benvenuti in questo nuovissimo video qua sul canale OPSAWELL oggi sono sempre qui in compagnia dei footwork ormai amici, colleghi dormo da loro famiglia noi siamo venuti siamo venuti qua perchè sapevo che c'è qualcosa di molto interessante ebbene si come avrete letto dal titolo oggi qualcuno di noi avrà la possibilità di portarsi a casa un bel 14 Pro aspetta aspetta sta suonando pronto amore? per raggiudicarsi questo magnifico iphone 14 pro dovrete contenderlo in una bellissima gara di rigori ad eliminazione ragazzi 14 manche 14 turni per vincere l'iphone 14 pro chi riuscirà a sopravvivere alle 14 manche se portare a casa? mettete 14.000 like chi vincerà o 14 like chi vuole partire? io vado per ultimo vai parto io ragazzi io mi abbiamo ordinato domanda voi ce l'avete? abbiamo portato un portirino 2007 dov'è? che è pronto a palazzo di diritto vieni per te vieni per te vieni per te vabbè è risa nell'inter però presentati come ti chiami? chiamo Matteo ho 15 anni gioccolò a Palerno e ho due anni che faccio il portirino allora puoi andare in porta no inizia ragazzi porto io per primo sono anche infortunato spero di non uscire presto non sarà un pretesto per uscire presto assolutamente butto il mio iphone 13 via tanto so che guadagnerò il 14 uuuu bomba bene bene primo andato wow bello ragazzi sono eri dei footwork non ho ancora un cellulare perchè i miei genitori non me l'hanno voluto ancora comprare quindi in questo video il mio obiettivo sarà vincerlo per avere il mio primo cellulare grazie Sam ah bello mamma mi incoglio sto giro te l'ho detto vada raga sono Gabriele Gentili futuro proprietario dell'iphone 14 bello pensavate fosse semplice ma mi contenderò anch'io l'iphone 14 pro spero di riportarmelo a casa yes al primo turno e invece passo tocca a Gunther ragazzi è il mio turno un iphone 14 mi farebbe comodo andiamo a vedere se la mette a sinistra se la mette a sinistra se la mette a sinistra bello nell'angolino nell'angolino è arrivato eccola eccola il primo ad uscire tra me ragazzi io ho l'iphone 11 sono rimasto indietro devo assolutamente aggiornarmi oh oh it's coming Pierino tocca da vincere a me questo fantastico iphone visto che io il telefono l'ho assassinato mica sei pronto? morti eh? 3 14 sto arrivando sto arrivando è il primo turno è andato mi va benissimo così saluta l'iphone hai comunque il 13 ho comunque il 13 voglio switchare dalla palla fluo gialla dalla palla fluo rosa la tua preferita attenzione secondo turno che culo tre meno tre meno tre meno tre meno tre meno ho fatto il gol lo stesso ragazzi sono un grande ansia sale e mette a destra andiamo di fuori io ho pensato di arrivare almeno 10 11 invece due due e metterno ragazzi vediamo qual va è la tua destra gunter che classico secondo tiro anche per me ragazzi ne ho fatto uno sono contento così allora si saluta anche Pier ragazzi sapete cosa secondo me secondo me questi palloni mi danno più forza non so se perchè sono fluo non so se perchè sono dei footwork o perchè per comando il mio culo 4 secondo turno ragazzi questo questo non sarà un video youtube ma uno shorts ragazzi calciato con la gialla calciato con la rosa ora tocca la nera ciao ragazzi sono sempre io mentre gli altri calciavano ho ordinato su amazon la cover dell'iphone 14 non ho passato correre amazon non ci credo ragazzi non posso buttare i venti di amazon non era rimborsabile ehi è il mio turno ragazzi scelgo anch'io la palla nera vediamo come va e c'è i footwork non vogliono mollare questo iphone 14 lo vogliamo ragazzi no di sicuro qualcosa c'è che qualcuno che forse qualcuno di voi footwork potrà vincere un iphone 14 come l'ha fregato 4 su 4 sinistro mamma mia ragazzi è entrato ho rischiato eh ho rischiato si ho rischiato siamo pronti ragazzi andiamo avanti e c'è quinto turno su 14 ci siamo ci stiamo avvicinando ragazzi ormai una palla vale l'altra ho tirato con tutte questa sarà la palla che mi farà sbagliare e ci saluta rimaniamo in 3 ci saluti a giocarci tu ci saluti noi rimaniamo però Matte lasciamo entrare questa la tira a sinistra c'ha ansia Matte la tira a sinistra c'ha ansia non lo so eh vediamo 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 rischio ma che cosa sta bene prima sto giro basta vediamo vediamo il giro basta non basta è il mio turno ragazzi andiamo tranquilli ogni turno che passa la palla pesa sempre di più perchè l'iphone è sempre più vicino allora se permetti i nostri palloni sono tutti di 345 grammi come del regolamento fifa quindi non è che pesa sempre di più la palla pesa sempre uguale bello bellissimo complimenti ragazzi per questo giro solo per questo giro mi metterò in porta io perchè questi segno un tipo che ciò è facile solo per questo giro il fratello si mette in porta solo per questo giro chi vuole fare il fenomeno? dibattate questo dibattate dai ci metterò su una pressione che pressione ma che pressione non la prendi neanche se sei mio fratello aia aia possiamo guardarla girata al suolo per questo turno volevo testare la vostra bravura ma bene grazie pornero non male mi vedo hai fatto l'ordinezione bordo mi ne vado ma no turno ragazzi appena va via l'iphone che ha perduto l'occasione eh capitoli ragazzi appena perdono finchè c'è l'iphone rimangono poi quando non c'è più l'iphone sparì solo tutti noi siamo rimasti è rimasto anche un bel iphone 14 pro non è male posso vedere se c'è perché magari magari sei di parola adesso come l'hai fatto vedere sto prima come vediamo chi se lo porterà a casa signori dai e un iphone 14 in varia veramente di fare lo scavetto l'ho fatto ragazzi per il nostro pubblico volevo provare a dare un po' di spettacolo ma il suo canale non è il nostro pubblico non sono ancora iscritto anche al nostro canale magari al qui però vabbè ce lo dividiamo nel caso lo vinci tu tu e io va bene buona continuazione ragazzi qua è dura vai 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 ah ragazzi è entrato ci siamo ci siamo non voglio perdere questo telefono qualcuno ha sparato troppo forte qua per pressione potrei chiuderla potrei chiuderla concentrazione ragazzi ho sbagliato il decimo palla che ti scotta però voglio un arancione voglio un arancione hai tre turni per vincere l'iphone perchè devi arrivare a 14 rigori fatti ricordiamo senza mai sbagliare ok ci sto senza mai sbagliare altrimenti se lo porta a casa il portiere ma mai mai nella vita mai nella vita mai? no allora dimostra che sei il counter dei futuri la voglio io no così però sembro cattivo che voglio togliere l'iphone da lui oh oh mamma mia l'aveva letta l'aveva letta però wow era ben angolata la viva parata voleva fermarmi voleva fermarmi la viva parata bravo matte non me l'aspettavo mali veramente bravo bravissimo bravo no non ci credo ma come ho fatto ho perso l'iphone ragazzi non ci credo non ci credo ragazzi credo eh è un qualcosa di clamoroso ragazzi dobbiamo mettere i turni ma se questo era il quattordicesimo ho perso l'iphone è un qualcosa di clamoroso ragazzi che cosa facciamo? guardalo la che cosa facciamo? guardalo la guardalo la guardalo la una grande sorpresa ragazzi a te hai preso il portiere tira sulla coppa tira sulla coppa tira sulla coppa ragazzi no allora stavo io in porto è successo un qualcosa di clamoroso Aita che è entrato beh scusate scusate però sono stato un po' schifo tu sono stato in porto anche io quindi è veramente scarso Mattia 7-7 ehi dove vai? Samu le regole sono regole abbiamo detto che se non mi insegnava 14 rigori l'iphone avrebbe vinto è il portero non sei tu il portero tu sei entrato hai preso 3 cannelle e te ne sei andato via ma il nostro Matteo e quindi ragazzi complimentoni al nostro mitico portiere che ha vinto l'iphone 14 pro però tu non ci sei accorto del cosa c'è scritto sul petto nel portiere e qui aaaaaaah e quindi manini 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 quindi l'iphone comunque vai footwork lo stesso bravo è andato così questo magnifico video io vi ringrazio grazie a te come sempre per aver partecipato mi raccomando ragazzi link in descrizione per i canali di tutti quanti i ragazzi che hanno partecipato al video ringrazio anche il portiere complimenti ci vediamo ancora quella da comparsi in mano che bello ma questo vale molto più di un iphone scusami ragazzi prossimamente sul mio canale Twitch che è dove vi parlerò della mia esperienza nei pearlas nei footwork nei fusegamer e ragazzi ciao per tutti ragazzi grazie ciao ciao